Ciao a tutti da TheFaceGame, qui Teller che vi parla, qui c'è anche Tibu con me a commentare. Una splendida costruzione di Minecraft. Sì, allora praticamente questo è il San Siro. Questo è il San Siro, è fatto benissimo, è una cosa incredibile. L'abbiamo fatto noi, ma poi abbiamo detto, beh non è che proprio sembra il San Siro. Sì, non è venuto tanto bene, ci siamo fatti dare una mano da chi? Da PNKKD che ragazzi, adesso vi faccio vedere, ha costruito il San Siro ragazzi. Questo è il vero San Siro. È un po' meglio del nostro, l'ha fatto lui anche quello comunque. Entra, entra da sotto, entra da sotto. Allora entriamo, facciamo come se arrivassimo allo stadio. Guarda quante bestie, fuori dallo stadio c'è tutta quella gente lì. Sì, ma c'è gente strana allo stadio. I cubi che sono gli ultra. Spaccalo, spaccalo. No, 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 non mi va. Allora guardate, Vip Entras, ovviamente è sbagliato scritto, è in pancia, vabbè dai. Non importa, noi siamo Vip allo stato puro. Andiamo avanti. Andiamo sotto. Ecco, un altro coglione. Che cazzo c'è? Robin Hood, Robin Hood. Robin Hood, auto beat. Vai giù, seguilo. Allora, Stadio San Siro Milano, campo da gioco. Beh, noi prima andiamo agli spogliatoi, no? Esatto. Andiamo a vedere il Milan come sta. Perché non si apre la porta qui? Tu apri le porte spaccandole. Sì, non si apriva. Vai a fare la bolla. Ah, questo è chiaramente Vidal. No, scusa, non è Vidal. Siamo nello spogliatoio del Milan, quindi è Nesta. Ma che faccia è Nesta. Ciao Alessandro. Comunque niente, qua ci sono gli spogliatoi. Cambiati, cambiati. Ecco, adesso mi sto cambiando. Qua ti fai fare i massaggi qua, no? Sì, qua ci sono i massaggi. C'è sempre Patto disteso qua sopra che è sempre rotto. Campo da gioco. Qua altri VIP Stadio. Andiamo dall'altra parte. Andiamo avanti. Comunque, si ha fatto tutti gli interni. Vi sto tenendo sulle spine perché non dovete mandare avanti il video. Se l'avete fatto vi ammazzo. Per l'altro non ti sento la zona mandata avanti. Sì, è giusto. Spogliatoio FC Internazionale. Allora, la squadra di Tibu, ragazzi. Andiamo dietro qui. Ecco, questa invece è chiaramente. Ma non vedi che è Maicon? Se li vedi chiaramente. Verde. Niente, qui ci sono i sette spogliatoi. Non ci sono i vetri. Senti, senti, sta facendo. Maicon, sai che... Si incazza. Si incazza Maicon. Sta buono. Stai calmo Maicon. Senta la partita, senta la partita. Andiamo dentro in campo, dai. Campo da gioco. Entriamo. Allora, ragazzi, qui come vedete c'è la galleria immagini. Gli sponsor. I giocatori veramente entrano da questi sbagliatoi. Ah, si giusto. Capito? Hanno un'entrata diversa dalla tua. C'è roba. Hanno fatto una roba assurda. Ma noi siamo VIP e entriamo dal centro. Vedi qui c'è Maicon, vedete? Vedete ragazzi, attenzione. The Champions. Ragazzi, si, sono qui. Sono in campo, ragazzi. Guarda, c'è anche... Hai visto? C'era Pato. Si, no, no, non è Pato. È Nesta. 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 qui, niente, io sono ragazzi, parto panchinaro e vabbè. Ah, il mio momento, il mio momento, ragazzi. Allegri mi dice entra. Può entrare, può entrare. Oh, attenzione, entri in campo. Prendi, prendi un ciuffo d'erba, prendi un ciuffo d'erba. Ma no. Aspetta, aspetta. Allora, c'è una zolla. Guarda, che giorni neri di merda. Niente, vabbè, ragazzi, come vedete lo stadio è fatto in maniera proprio assurda. Vai su, vai su un attimo, vai in tribuna. Andiamo in tribuna, ragazzi. Allora, io stesso ho segnato e vado, guarda anche i cartoni pubblicitari, comunque. Eh, sì. Tutti i cartoni pubblicitari, incredibile. Con i cubi, anche. Mamma mia. Fai lo steward. Faccio lo steward. Aspetta, per fare lo steward, basta fare così. Ecco. Allora, vedi la ringhiera. Tutto il giorno, tutto il giorno qua. Niente, andiamo su. Andiamo su. Volo. Uso l'abilità. Io posso volare. Io posso. Eh, tu puoi. Niente, qui, ragazzi, c'è l'entrata dello stadio. Cosa c'è qua? Ma no, però. Ma fallo vedere un po' dall'alto. No, facciamo vedere dopo. Qui, ragazzi, siamo decisamente in curva. Praticamente, dai. Andiamo un po' più giù, dai. Noi che siamo VIP. Ah, aspetta, cosa dico? Noi siamo VIP, andiamo in tribuna VIP. Perché c'è anche questa. Andiamo, andiamo. Ragazzi, qui c'è la tribuna VIP. Vedete dove di solito si siede il presidente. Dato che noi stiamo commentando dopo. Abbiamo lo posto per commentare nel posto giusto, giusto? Che frase di merda sto facendo? Non lo so ora. Infatti non so cosa stai dicendo. Qui sono in tribuna VIP. Ora mi siedo. Qua c'è Presidente Berlusconi, Alessandro Gagliani. Si chiama Alessandro? Comunque c'è Gagliani, Berlusconi. La c'è Marotta, c'è Moratti. Guarda la zona che hai fatto. Si vuole chiaramente che hai rovinato un capolavoro. Comunque c'è lo steward, vedi? Guarda c'è anche un altro in campo. Quello è Maicon che si sta allenando. Guarda che corre sulla fascia. È triste però. Perché ultimamente l'Inter non sta andando bene. Guarda che cazzo di cubi che ci sono là. Comunque niente ragazzi, qui è la tribuna VIP. Ma adesso se io sono piccinini, per capirci, e dobbiamo commentare la partita, io e Tibu dobbiamo sederci in tribuna, dove nella sala conferenza. In sala stampa lì. Hanno quella faccia seriosa. Esatto, qui c'è il vetro che mi dà fastidio, quindi io sto qui. Sono piccinini con Aldo Serena. Saluta Aldo. Saluto saluto. Taylor e Tibu a commentare Milan-Inter ragazzi. Che non ci sono, devono ancora entrare. Si, c'è solo Maicon che non si sta più scaldando. È andato dentro. È tornato negli spogliatoi. Allora praticamente questo è lo stadio, no? Se noi andiamo all'esterno, l'avete visto all'interno. Fai un attimo sopra dall'alto un attimo. Ah si si, adesso vado all'ossia, un momento. Un momento, un momento. Qui è dall'alto. Guarda che roba c'è. Visuale aerea. Ma quanto tempo ci ha messo? Ma non lo so, guarda quanto è grande. Cioè. Mamma mia è enorme l'ha fatto. È enorme. Con tutto il vetro qui. Se avete notato, ha fatto anche le quattro colonne portanti che sostengono il San Siro. Sì, uguale. Niente, ma il punto è che le colonne portanti sono visitabili. Ah, puoi entrare dentro? Sì, adesso ti faccio vedere. Praticamente non si entra solo da dove avete visto voi l'entrata principale dove ci sono anche... Sopra il tetto si entra, giusto? Beh, chiaro. Come tutti gli stati che si rispettino. Esatto, si entra anche dal tetto. C'è un gran buco. Niente, qui come vedete c'è il parcheggio che vi ho fatto vedere. Prima siamo entrati da là, no? Ah, sì. E anche qui c'è la fila per entrare da quella parte. Adesso cosa facciamo? I pezzenti che entriamo da qui? Cosa facciamo? No, ti fa vedere che qui praticamente dove la gente fa la fila per entrare nello stadio. Vedi, qui ci sono le gradinate e ti ritrovi praticamente sulla parte... Con gli stewards. Con gli stewards che ti saltano addosso. Niente, comunque questa è la parte secondaria. Poi c'è anche la terza parte in cui si può entrare nello stadio. Sì, boh, ma devi farti tutta la salita sulle scale. Fai vedere solo l'ingresso, dai. No, boh, ma io volo, c'è scusa. Eh, lui vola, no? Capito? Mi sbatto la testa, boh, ma forse è meglio che prendo le scale. Forse è meglio che esci da sta roba qua. No, si può entrare anche da qui. Qui entri in curva, se non sbaglio. Guardate, vabbè, qui ci sono le scale che vi portano direttamente in curva. Vedete? Eccolo qua. Sono in curva. Praticamente dovrebbe essere il terzo anello. Eh sì, l'ultimo. Il più alto. Dove incominci a gridare come dei pazzi. Qua ci sono proprio gli ultradi, quelli fusi in testa. Che tirano le molotov in campo e ammazzano... Sì, che tirano bombe. I cubi verdi. I cubi verdi, guarda, i cubi verdi. Buone. Niente ragazzi, adesso mi imbedesimo un po' nel giocatore. Guardate, guardate. Sì, volando ti imbedesimi. Allora, qua si fa il calcio dell'invio. Dopo la riva alta. Tu non sei la palla. Io sono la palla. Palla centro campo. Oh, colpo di testa. Palla avanti. Ma tu stai poco bene. Uh, passaggio di profondità. Attenzione, attenzione. Il tiro. Traversa. Spacca la traversa. Spacca la traversa. Attenzione, un tiro incredibile che spacca la traversa. Spacca la traversa. È incredibile. Guarda, vacca la giusta. Sì, ma tu aggiusti tutto di merda. Cioè, dai, aggiusta bene. Forse è questo. Ecco, così è a posto. Metti un pezzo di erbo. Forse è questo. Non funziona. Non funziona. Non funziona, va bene. Non sono proprio un costruttore. Comunque la zolla. La zolla. E quello si capisce che... Bene, ragazzi. Come avete visto, da qui è tutto. Da qui è tutto. Sì che è tutto. Andiamo alla linea a Studio Sport, noi. dal collegamento da San Siro. La partita inizierà fra 10 minuti. Per il dopo partita. Deve ancora cominciare, ma c'è il dopo partita. C'è il dopo partita. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.